le relazioni sentimentali intime sono spesso viste come uno dei luoghi più appaganti e ricchi della nostra vita ma allo stesso tempo richiedono un'attenzione costante e anche una grande cura e spesso ciò che può sembrare all'inizio un legame perfetto col tempo può rivelare anche delle crepe e allora in questo video parleremo proprio dei cinque segnali più importanti dei temi più importanti da osservare nella coppia se si vuole che questa coppia abbia un buon rapporto e prosegui nel tempo a lungo in modo anche molto soddisfacente e questi segnali comunemente si chiamano bandiere rosse allarmi potremmo dire che sono degli indizi di potenziali problemi che se vengono ignorati possono portare a conflitti tensioni e persino a volte alla fine di una relazione molto prematuramente e allora parleremo quali sono questi segnali da non sottovalutare sia se si ha la ricerca di un amore importante e sia se si vuole vivere una relazione sana segui tutto il video adesso partiamo con il primo un primo segnal d'allarme potremmo definirlo quello in cui si è in differenti fasi della vita perché questo è uno dei primi segnali d'allarma in una relazione è proprio quando due partner si trovano in fasi di vita completamente diverse allora immaginati claudio nome di fantasia trentenne di milano che ha finalmente deciso di stabilirsi di concentrarsi sulla carriera mentre il suo nuovo compagno paolo un ragazzo di 28 ha appena iniziato invece a godersi la sua indipendenza e vuole viaggiare per il mondo senza preoccuparsi troppo del futuro queste due persone all'inizio si piacciono moltissimo ma col passare del tempo iniziano a emergere dei problemi perché claudia le sogna di comprare casa di costruire una famiglia e invece paolo non riesce nemmeno a decidere dove vuole vivere l'anno successivo e anche se i sentimenti d'amore sono forte e forti questa differenza di fase di vita potrebbe causare veramente conflitti e frustrazioni anche a lungo termine e sia chiaro questo non significa che la relazione sarà condannata ma è però essenziale non farsi accecare dall'entusiasmo iniziale questo non significa che la relazione è condannata però è essenziale non farsi accecare da quell'entusiasmo fantastico che c'è all'inizio della relazione e quindi considerare con attenzione se le aspettatività della vita e le priorità sono allineate perché a volte cerchiamo di far funzionare le cose ma è come cercare di far entrare un quadrato in un cerchio e allora prima o poi le differenze si manifesteranno e potrebbero diventare fonte di stress e anche di incomprensione secondo aspetto molto importante da considerare quello dei valori e degli obiettivi che se sono molto differenti questi rappresentano un'altra bandiera rossa però è anche vero che molte coppie lo sottovalutano perché evitano di affrontare questo argomento all'inizio perché c'è la paura di rompere quell'idilio romantico che si è creato e allora pensiamo a davide e giulia una coppia che vive a roma e davide ha sempre sognato di avere una famiglia numerosa mentre giulia non è mai stato sicuro di voler figli però invece di discutere apertamente di questo hanno preferito evitare questo argomento per molto tempo pensando che con il tempo tutto si sarebbe sistemato ma con il passare degli anni la questione diventa più pressante e allora in quel momento si rendono conto anche loro che stanno camminando su due strade molto differenti e questo tipo di incomprensioni possono riguardare anche altri aspetti fondamentali come gestire i soldi le abitudini di tipo religioso se una persona ha una fede o un'altra il modo di vivere il tempo libero la visione del futuro ovviamente avere valori diversi non significa che la relazione non possa funzionare ma ignorare dei temi così importanti porta spesso a delusioni e risentimenti allora esprimere chiaramente i propri confini le proprie aspettative dall'inizio è essenziale per costruire una base solida su cui sviluppare il rapporto sospetto molto importante sicuramente quello che riguarda il proprio bagaglio emotivo i traumi non risolti perché tutti noi portiamo con noi un bagaglio che del nostro passato che si tratti di esperienze traumatiche delusioni o vecchia relazione ognuno di noi ha vissuto momenti che hanno lasciato un segno ma quando questo bagaglio non viene mai aperto di fronte al proprio partner non viene mai elaborato può trasformarsi in un ostacolo per la relazione attuale presente ad esempio marta una quarantenne di torino ha iniziato una nuova relazione con luca ma si rende presto conto che luca ha difficoltà a fidarsi a causa di un tradimento che ha subito anni prima e allora anche se marta fa del suo meglio per rassicurarlo luca continua a dubitare di lei e questo crea una distanza emotiva che compromette il loro legame luca continua a dubitare di lei creando una distanza emotiva che compromette il loro legame allora in questi casi è importante capire che è possibile avere empatia per il dolore del partner ma è altrettanto fondamentale che entrambi ci si impegni a lavorare a lavorare sui propri traumi perché se uno dei due partner non è disposto a fare questo lavoro il rischio è che il peso del passato finisca a sabotare anche la relazione sana e positiva che stai vivendo quarto aspetto da tener conto quarto aspetto molto importante quello che riguarda gli abusi e le manipolazioni perché questo è proprio un semaforo rosso che non bisogna ignorare cioè la presenza di qualsiasi forma di abuso che sia verbale emotivo fisico psicologico perché purtroppo fatemi fare questa citazione ma in italia e i casi di violenza domestica e gli abusi nelle relazioni non sono proprio pochi è uno degli aspetti più complessi di queste dinamiche e che spesso chi subisce l'abuso non riesce a riconoscerlo subito e allora anche qui l'importanza di conoscere e riconoscere quello che sta accadendo nella relazione e quindi cogliere anche i primi segnali di abuso anche quelli più subdoli più sottili perché molto spesso l'abuso inizia in maniera subdola sotto forma di piccoli gesti di controllo o commenti denigratori che poi però si intensificano con il tempo questo è il caso di sara che si rende conto che il suo compagno andrea la critica costantemente il modo in cui si veste il modo in cui parla con gli amici e all'inizio sara pensa che lui stia semplicemente cercando di proteggerla o di darle dei consigli ma col tempo queste critiche diventano sempre più frequenti e velenose anche fino a farla sentire insicura e svalutata e allora se ti trovi in una situazione simile è fondamentale chiedere aiuto a un professionista e non sottovalutare questi segnali perché voglio essere chiaro nessuno merita di essere maltrattato o manipolato all'interno di una relazione questo aspetto molto importante e quando c'è indisponibilità emotiva immaturità questo non significa che debba essere una persona perfetta ma se qualcuno all'interno della coppia è costantemente incapace di gestire le proprie emozioni o non è disposto a crescere a migliorarsi la relazione rimarrà sempre un po in bilico un esempio comune è quello di chi evita costantemente di affrontare delle discussioni serie che minimizza minimizza i problemi o cerca di distrarre l'altro con delle battute o dei cambi di argomento prova a immaginare una giovane coppia che ogni volta che un partner cerca di discutere di un problema serio l'altro si chiude cambia argomento o si infastidisce dicendo che lei che lui che esagera sempre questo comportamento non solo impedisce alla coppia di superare i conflitti ma crea un muro tra di loro facendo sentire la persona che cerca i chiarimenti come incompreso come incompresa da emotiva non è necessariamente un segno di cattiveria in chi vive questo aspetto ma è un aspetto che richiede di far del lavoro su di sé perché se uno dei due partner non è disposto a crescere a migliorarsi la relazione sarà comunque sempre limitata allora in conclusione possiamo dirci che le relazioni possono essere una delle esperienze più appaganti della nostra vita ma è anche importante essere consapevoli che alcuni segnali di avvertimento ci possono indicare potenziali problemi e ignorare le differenze di fase della vita i valori non allineati traumi risolti gli abusi e le manipolazioni o l'immaturità emotiva può portare a grandi delusioni e a sofferenza però accanto a questo sappiamo anche che se riconosciamo questi segnali in tempo e li affrontiamo con onestà e determinazione possiamo costruire relazioni più sane felici e anche durature e se ti riconosci in una di queste situazioni non esitare a cercare supporto o di un professionista un terapeuta o a rivolgerti anche degli amici cari che stimi che hanno molto affetto nei tuoi confronti perché ogni relazione merita di essere trattata con cura e con rispetto se hai visto questo video fino alla fine se ti piace il modo in cui io parlo di questi argomenti se ti piace il modo in cui gestisco questo canale se non l'hai ancora fatto ti chiederei di iscriverti per te è un gesto gratuito completamente ma per il canale molto importante perché lo aiuta a crescere e dall'altro lato riconosce anche un po il mio impegno a divulgare questi argomenti